Ella Fitzgerald è in tournée in Italia. Sono passati 35 anni da quando Chick Webb, un batterista negro, la scoprì giovanissima, ma già dotata di una voce eccezionale. Ora Ella ha passato i 50 anni, ma la sua voce e il suo entusiasmo sono rimasti quelli stessi che hanno fatto di lei la più grande cantante jazz del mondo. Vediamo come l'ha accolta la gente di Prato, dove ha cantato ieri sera accompagnata dal trio di Tommy Flanagan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.